un terzo del secondo tempo se n'è già andato bello intanto il numero da parte uno scatenato Leonardo mette al centro gol da fantascienza questo nello United d'Aprilia con Leonardo che se n'è andato affondato come il coltello nel burro caldo a sinistra ha messo un bel pallone verso Montenero che ha potuto soltanto toccare il porta pallone scucciato in avanti adesso verso Eusebio lavoro da parte di Eusebio che riesce a scavalcare il portiere poi a depositare di testa il pallone in fondo al sacco 4-1 per la buona onda Pignatiello per Galieti Galieti libera il destro palla sotto la traversa gran gol di Luca Galieti 1-0 United c'è Lavinio Aiello se ne va fa tutto da sola fino al tiro con la conclusione che vale la rete il terzo gol Fagnani alto mancino poi pallone a Bernoni Bernoni a spazio Bernoni palla in rete Bernoni ancora lui prova a spaccare la partita 3-1 United secondo tempo sono passati ormai in 5 minuti Bernardes gran numero per Terenzi 3-0 Latina la rete di Andrea Terenzi ma che numero Hugo Bernardes veramente brutto attenzione intanto a questa spread di ripartenza che è stata finalizzata da Fulco impeccato magistralmente da Abate ricomincia a giocare la United da dietro stacca la formazione di casa con Lippolis che porta in vantaggio la United d'Aprilia sinistro-destro 1-0 tra United grande lavoro da parte del numero 5 Petraccini poi Marconi la riconquista qui molto bene allora Sanna c'è tale per Pucci Pucci sfida Gian Porcaro Pucci grandissimo gol da parte di Pucci che riporta in avanti il Città Rosca adesso dovrebbe cercare di velocizzare un po' i tempi Macheda la sventola di Macheda gran gol da parte del numero 12 dello United d'Aprilia che porta in vantaggio la sua squadra Ciuffa subito con le mani a rimettere in movimento il Giulianello verso il numero 7 che beffa prima coletta e poi Maglione il gol di Fagiolo pallone per De Giudici De Giudici si fa largo De Giudici gran gol di De Giudici che gol si è fatto largo destro all'angolino e quindi si riparte da sinistra con Lorenzoni con la suola per Bernoni ancora Bernoni ma con il sinistro una magia di Bernoni che spacca la porta è il raddoppio della United d'Aprilia con Bernoni Poi verticalizzazione Pizzuti Lorello si incune a Lorello Lorello il destro sotto l'incrocio che gol di Gianluca Lorello uno pari